La raccolta è andata oltre le aspettative. Alla conferenza dei donatori a Bruxelles, il Mali ha ottenuto finanziamenti per oltre 3 miliardi di euro nei prossimi due anni. Le autorità maliane promettono trasparenza nella gestione dei fondi per la ricostruzione. Abbiamo un piano in 12 punti per l'economia, le infrastrutture, i servizi sociali. Pensiamo che l'estremismo e il terrorismo possano crescere solo dove c'è ignoranza e povertà. Dopo un anno di guerra civile, la priorità sarà garantire la stabilità di un paese ancora sconvolto dal conflitto, come sottolinea la direttrice del Programma Alimentare Mondiale. Ci sono ancora 300.000 persone dislocate che hanno lasciato il nord per vivere nel sud del Mali. Altri 175.000 profughi vivono nei paesi vicini. Ed oggi stiamo sfamando altre 700.000 persone che hanno bisogno di assistenza alimentare. L'Unione Europea è il principale donatore con 520 milioni di euro tra il 2013 e il 2014, ma l'aiuto è condizionato ad una transizione democratica, ci spiega il Ministro per lo sviluppo francese. Saremo molto attenti allo svolgimento delle prossime elezioni, dice. La data del 28 luglio è ora ufficiale. Gli impegni finanziari presi oggi saranno legati al rispetto di una maggiore democrazia in Mali. Uno scrutinio a rischio. Il nord del paese è ancora in parte in mano ai tuarghi e al loro movimento separatista. In questo contesto la ripresa economica del Mali appare lontana.